benvenute e benvenuti a tutti e tutte in cronaca del metaverso il podcast di metafora e di roger che vi aiuta a dare forma e concretezza a questo concetto di cui tutti parlano ma effettivamente nessuno ha ancora capito esattamente cosa sia io sono filippo lubrano sono consulente autore su temi di innovazione e internazionalizzazione e con me ci sono simone spoladori esperto di podcast e chief narrative officer di roger e il nostro il nostro ospite per la puntata zero di cronaca dal metaverso è davide strozzi ciao davide ciao buongiorno a tutti imprenditore ed executive in ambito marcom tecnologia innovazione da oltre vent'anni appassionato di evoluzione umana e della tecnologia come suo acceleratore soprattutto sul lato della comunicazione è un affamato di futuro di tutto ciò che c'è oltre e di tutto ciò che non è stato ancora inventato quindi è insieme a noi è cronista di questo momento storico eccezionale che promette un cambio di paradigma del senso della vita per per tutto il genere umano potenzialmente e quindi era l'ospite ideale direi per iniziare a introdurre i nostri temi di cronaca dal metaverso cominciamo a prendere un po di confidenza con quello che è il format di cronaca dal metaverso che diciamo ha una domanda iniziale standard che faremo poi a tutti e a questa quindi davide iniziamo da te dammi la tua definizione di metaverso allora premesso che oggi il metaverso non sappiamo ancora bene cos'è e che quindi ci sono tante visioni no che ancora forse non hanno trovato la come dire realizzazione più compiuta quindi diciamo che forse oggi la fa da padrona la la visione di un metaverso come di una realtà virtuale virtuale sostanzialmente immersiva nella quale si possa come dire vivere un'esperienza che sempre più immaginiamo sia indistinguibile dal reale e nella quale di base c'è una tecnologia blockchain con gli nft che consente in qualche modo di far sì che tutte le nostre azioni vengano tracciate in un modo in qualche modo eh non eh come dire modificabile in modo fraudolento sostanzialmente e quindi diciamo ci dà una certa idea di realtà sicura anche se totalmente virtuale poi in realtà il metaverso oggi può essere una realtà eh aumentata quindi una mixed reality diciamo che la direzione è ancora incerta ma che molti comunque incominciano a parlarne come di un qualcosa che sempre di più insomma si sostanzierà in qualcosa che va oltre quello che noi percepiamo come reale il reale di tutti i giorni ma se posso Filippo mi piacerebbe invece subito mettere in evidenza una cosa qual è no il mio interesse per questo metaverso ehm e per quello che compiutamente potrà essere un domani perché questo si lega davvero a quella che è una mia passione forse un'ossessione in questo momento che è quella del pensare che questo secolo sia potenzialmente un momento straordinario nella storia umana un crocevia che possa portare a quello che dicevi inizialmente tu a un cambio di paradigma per quello che vuol dire davvero essere umano e con tutto quello che sono gli obiettivi le opportunità dell'essere umano ma anche le caratteristiche dell'essere umano e io ritengo che in quest'ottica di cambio di paradigma ci siano tante tecnologie o situazioni convergenti dico il metaverso è una di queste strade e mi spiego meglio cosa voglio dire voglio dire che ehm diciamo faccio un esempio un giorno ero con mio figlio a guardare un video su youtube di un prestigiatore che faceva numeri eccezionali che lasciavano tutti a bocca aperta e che un giorno ha deciso di svelare uno dei suoi trucchi eh quando il prestigiatore ha fatto vedere questo trucco siamo rimasti innanzitutto sconcertati dalla semplicità ma soprattutto dall'effetto che creava il non saperlo ma quella rivelazione ha cambiato il nostro punto di vista per sempre nel vedere i trucchi di magia anzi da quel momento in poi abbiamo incominciato a immaginare i trucchi anche di quelli eh per i quali non c'era stata data nessuna spiegazione quindi ha cambiato per sempre la nostra ottica ecco tornando al metaverso se noi saremo davvero in grado di creare una realtà così eh indistinguibile dalla realtà di tutti i giorni quindi una realtà che ci inganna completamente io penso che viveremo la stessa esperienza cioè tornando poi alla realtà di tutti i giorni non potremo che guardarla con occhi diversi perché saremo improvvisamente diventati quel prestigiatore con quel trucco avremo saputo ingannare noi stessi ma quando torneremo a guardarci attorno alla realtà di tutti i giorni forse saremo in quel momento in grado di guardarla da un'angolazione completamente diversa che rischia non solo di metterla in discussione ma di farci capire delle cose che fino ad oggi non abbiamo capito ecco questa dimensione del metaverso devo dire mi affascina molto e tutto sommato non è così di là da venire a mio avviso ci siamo molto vicini assolutamente assolutamente allora diciamo che la maniera in cui sto vivendo il metaverso è più come un mosaico diciamo come un tassello di un mosaico di innovazioni che sono ancora ancora più grandi e le cose che dicevi mi fanno venire in mente anche alcune cose che diciamo mi sono venute un po alla memoria studiando approfondendo i concetti sull'intelligenza artificiale generative su tutto il discorso adesso di ovviamente chat gpt mi giorni eccetera eccetera ecco quel mondo effettivamente fa pensare che stia per saltare un po un tappo e possa succedere effettivamente un'accelerazione a cui non siamo ancora abituati e che potremmo non del tutto comprendere volevo coinvolgere anche simone perché ovviamente in questi mesi l'ho abbastanza tediato sul tema del metaverso e mi interessava avere anche una sorta di sua definizione del metaverso dal suo punto di vista narrativo direi nel mio nel mio immaginario di appassionato di narrazioni e soprattutto di cinefilo il metaverso è legato a narrazioni come dico la più banale come matrix o come the true man show per questo motivo questo concetto che di fatto è stato introdotto dal buon mark zuckerberg mi sembra un concetto o almeno è stato non introdotto ma sdoganato da da zuckerberg è stato reso mainstream da zuckerberg però mi sembra un concetto ancora un po pretenzioso cioè mi pare che il metaverso non sia possibile definirlo in maniera precisa perché di fatto il metaverso oggi non esiste cioè non esiste il metaverso esiste peraltro da tanto tempo la realtà virtuale esiste da un bel po di tempo la realtà aumentata esistono le realtà espanse la realtà alternativa ed esistono tante eh tanti ambienti tante applicazioni che ti permettono di accedere a questi mondi alternativi e tutto questo però è ben diverso dal dire che esista il metaverso quando si dice io sto che un'azienda vuole sbarcare nel metaverso è una definizione come dire per certi versi un po come dire un po illusoria perché quale su quale su quale in quale ambiente in quale su quale piattaforma con quale caratteristiche io credo che a far cosa aggiungerei e a far cosa cioè io credo che una vera definizione di metaverso la raggiungeremo quando in un certo senso un po come è successo per per il web si creerà un'unica grande entità magmatica e gelatinosa in cui si potrà entrare in maniera trasversale e con tante situazioni comunicanti tra di loro adesso mi sembra un un come dire una bolla eh di sperimentazioni spesso affascinanti ma che ancora deve trovare forse esplodendo troverà una una dimensione una sagomatura precise sono sono molto d'accordo in effetti il metaverso in questo momento più che una piattaforma direi che è un asintoto che non raggiungeremo del tutto mai ma che quantomeno dà una direzione verso cui muoversi e questa è un po la sensazione di base che ho e ovviamente intorno al concetto di metaverso si coagulano tutta una serie di ecosistemi che in qualche modo fanno parte dell'ecosistema dell'innovazione ma che poi hanno un impatto direi enorme dal punto di vista non solo economico ma sociale perché poi le cose che stiamo vivendo avranno un impatto sociale devastante in alcuni settori direi davide se allora abbiamo parlato appunto un po di di metaverso quali sono gli altri fattori siccome ho sentito una sorta di sentore transumanista in alcune cose che dicevi all'inizio della tua cosa quindi mi interessava capire quali erano gli altri elementi che ci mancano intorno al metaverso per arrivare a una visione di questo salto paradigmatico come ci sono come dice allora la cosa a parte che questa già introduzione mi ha fatto venire in mente 200 cose non saprei da dove iniziare ne vorrei dire troppe no per aiutare chi ci ascolta mi viene da dire che in molti casi oggi quando si parla di metaverso potremo sostituire una vecchia parola che non si usa più che è cyber spazio no che si usava più un tempo perché per certi all'ottanta per cento fitta sempre bene no e cyber spazio forse tanta letteratura tanta storia di film eccetera io ne ho ricordati alcuni simone ma io ricordo non so johnny mnemonic ricordo i primi libri di william gibson degli anni ottanta no dai quali molti dei film poi sono derivati che parlava il romante su tutti poi la notte che bruciamo croma ci sono un sacco di interessanti e questo rende appunto forse un'idea più familiare del metaverso perché l'abbiamo vista in certe ottiche in questo mondo detto ciò volevo legarmi solo una cosa di che ha detto simone è vero c'è il tema metaverso oggi non è un metaverso ci sono peraltro tanti metaversi non che non si parlano gli uni con gli altri che sono accumulabili per certe caratteristiche il processo del metaverso lo lo assimila a qualcosa che apparentemente non c'entra niente ma il mondo delle app che oggi in qualche modo le puoi scaricare dalla tv le puoi scaricare dal telefono dal computer e ti fanno accedere a un pool di funzionalità e quindi è una sorta di metamondo che io posso in qualche modo penetrare da tanti punti di eccesso diversi quindi io mi immaginerei domani forse il metaverso come una somma dei metaversi che ci sono che sarà sempre più accomunata da un plateau di caratteristiche simili e che mi permetterà di accedere da tanti punti diversi in tanti modi diversi e quindi io stesso nel metaverso potrei essere tante cose diverse a seconda di che area del metaverso vado a visitare no già oggi se vado in the sandbox che è uno dei metaversi ci sono tante esperienze che posso fare anche molto diverse pur vivendo in un mondo che ha determinate caratteristiche comunque tornando invece alla cosa mi sta più a cuore del cambio di paradigma devo dire che oggi ecco c'è c'è una cosa che secondo me sfugge completamente al grande pubblico ma anche al mainstream che io guardo pochissimo la tv forse non la guardo più perché ormai non lo so mi sembra una roba antistorica c'è troppo vecchia troppo lenta no però consideriamola ancora un mezzo che parla di quello che si fa a livello mainstream soprattutto la politica no di oggi cioè secondo me oggi veramente mai forse nel mondo la politica guarda in modo tattico a quello che sta poco più avanti e poco in modo strategico non ci sono più le grandi visioni le grandi no utopie no che ci guidano in qualche modo ecco ci stiamo perdendo una dimensione che è quella del tempo per un cambio di paradigma potenzialmente epocale cioè stiamo completamente perdendo di vista che alcuni cambia che il cambiamento di paradigma potrebbe avvenire a una velocità del tutto incontrollabile imprevedibile e potrebbe arrivare da fonda diciamo da da strade diverse che però sono tutte convergenti vanno più o meno in quella direzione faccio no degli una serie di esempi cioè oggi che cosa può portare il cambio di paradigma e ce ne sono tantissimi di approcci ne prendo uno un po più eh alla lontana Starling anzi ehm diciamo SpaceX ecco diciamo che a breve SpaceX può fare il primo lancio orbitale ha un traguardo ambizioso di portare il primo uomo su Marte eh nel momento in cui realizzasse gli obiettivi entro il 2050 prevede di avere una città di un milione di persone su Marte chiaro che colonizzare un pianeta che non è il nostro ci pone per esempio di fronte a una sfida epocale in termini di cambio di paradigma che ci costringe a ragionare in in modo diverso abbiamo banalmente la possibilità oggi con la genomica e lo dico da ex genetista di eh lavorare sul nostro DNA a un livello che solo fino a trent'anni fa era impensabile lasciamo perdere le terapie geniche eh la possibilità di stampare gli organi che c'è oggi questo ci pone in una condizione che forse a brevissimo potremmo arrivare a un punto dove il senso della morte perde completamente di significato e questo inevitabilmente cambia nuovamente il paradigma perché ci costringe a pensare l'essere umano senza una qualità però ecco vado anche a altre cose più pratiche eh pensiamo a Nuralink no? Tecnologia di una startup di Elon Musk che può connettere l'uomo in modo nativo diciamo con l'introduzione di un chip nel cervello con internet quindi potenzialmente questo potrebbe darci la chance di sviluppare dei sensi nuovi che non esistono ancora quindi far percepire lo scambio di informazioni attraverso internet come un istinto come una sensazione fisica quando fino a ieri era mediata da un device che ci costringeva a scrivere eh immagini computer quantistici con la possibilità magari un domani che ci supportino nel fare un'immagine esatta dei nostri ricordi o della nostra coscienza questo ancora metterebbe a rischio il paradigma della morte no? Perché come in alte red carbon diventeremo una cartuccia migrabile in robot che ci renderebbero longevi per tutta la vita ecco quindi dico tutte queste cose e poi ci metto scusate l'ultima l'intelligenza artificiale e qua vado a parlare del tempo perché se l'intelligenza artificiale arrivasse alla famosa singolarità e una mattina prendesse coscienza di sé oggi grazie a internet potenzialmente avendo dimostrato recentemente che è pure creativa potrebbe essere l'essere più intelligente della terra accedendo a tutta l'intelligenza umana e potenzialmente creativo a tal punto da inventare cose che noi non immaginiamo e decidere di avere un senso che noi non gli abbiamo attribuito e a quel punto potrebbe anche decidere che gli umani forse non necessariamente le servono per i suoi obiettivi oppure no tutte queste cose possono avvenire in un tempo strettissimo chat gpt mi impressiona le curve di crescita degli utenti è una delle intelligenze artificiali di cui si parla moltissimo in questi giorni che in un mese è passata non esiste in tre mesi non esisteva da quando esiste in un mese ha fatto sette milioni di utenti facebook ci ha messo un anno a farne un milione e la curva di crescita è esponenziale quindi quello ecco dicevo vivo una contraddizione fra quello di cui si parla tutti i giorni e il fatto che una mattina tutto potrebbe cambiare in modo radicale così con uno schiocco di dita e perché in questo momento tante di queste tecnologie puntano tutte lì a un'idea che stravolga per la prima volta nella storia quello che è il senso dell'uomo che è duecentomila anni o centomila dalle ultime diciamo degli ultimi studi che è uguale che è quello che alla fine vive e muore e è solo il contesto sociale che cambia il contorno infatti guarda davide secondo me questa roba è già iniziata pesantemente e un primo aspetto che secondo me è totalmente passato inosservato ai media generalisti e di cui non si parla a sufficienza è il tema è un tema economico in realtà e sappiamo quanto l'economia generalmente è importante nell'agenda politica nell'agenda anche della narrazione che abbiamo proprio giornalistica ed è quello dell'high frequency trading cioè il trading ad alta frequenza io sono rimasto sconvolto nel venire a conoscenza di questi fenomeni dove in alcuni casi c'è un collocamento quindi un ipo un collocamento di un titolo in borsa che nel giro di una frazione di millesimo di secondo cioè una cosa che fate conto che quando bolt oppure quando jacobs sentono lo sparo del diciamo dello starter il tempo di reazione nel migliore dei casi a 160.000 secondi questo è proprio quello che ci vuole a livello di input per mandare il segnale dal cervello ai muscoli e per capire che sta succedendo qualcosa quindi sotto sotto a quello non è possibile parlare di una reazione umana ecco qua stiamo parlando di una di un ordine di grandezza molto inferiore e in alcuni casi questi algoritmi ad alta frequenza che muovono già più della metà di quelli che sono i titoli mondiali in borsa fanno sì che di fatto appunto in una frazione di secondo possano sparire o aumentare esponenzialmente delle cifre di denaro possano gonfiare le quotazioni eccetera di questo non si parla abbastanza e credo che sia una delle cose che più palesano il fatto che noi siamo totalmente ignoranti e non riusciamo già oggi a capire una buona fetta di quello che succede a livello mondiale quindi delegando ed è normale che deleghiamo perché effettivamente queste robe qua le fanno meglio di noi delegando una serie di attività alle intelligenze artificiali a tutto quello che è il percorso di automazione rischiamo effettivamente di perdere un pezzo di conoscenza noi ma soprattutto di non riuscire assolutamente più a capire cosa succederà dopo questa cosa è inquietante e qui torniamo a quello che diceva simone di matrix per cui simo alla luce di tutte queste informazioni tu se se oggi fossi fossi mio prenderesti la pillola blu o la pillola rossa è una bella domanda però vedi che anche noi parlando ne stiamo convergendo verso verso la distopia questo questo è significativo ecco proprio perché credo che in un momento di rapidità come come quello che ha descritto benissimo davide il problema fondamentale sia che si perde il tempo necessario cioè non abbiamo il tempo necessario anche per interrogarci sui limiti etici sulle questioni morali sulle implicazioni filosofiche che queste trasformazioni portano con sé qui siamo ovviamente oltre il metaverso cioè il metaverso per come lo conosciamo noi adesso è semplicemente un come dire un tassello microscopico di questo mosaico più complesso però direi che questo è l'aspetto fondamentale però credo anche che sia come spesso eh Filippo diciamo anche ai nostri eh ai nostri clienti ai nostri potenziali clienti diciamo che proprio per questo motivo è sostanzialmente questo il momento in cui è importante essere della partita essere di questa partita perché questo è il momento in cui vengono definiti i confini i limiti le caratteristiche di quella che è senza dubbio una una nuova era poi non necessariamente peggiore non necessariamente migliore ma sicuramente nuova e torniamo sempre un altro riferimento pop volevo parlare di don look up che è stato un tema in cui si è molto discusso quando è uscito questo film con Leonardo DiCaprio eccetera si è discusso però per degli aspetti che secondo me hanno trascurato un dettaglio non trascurabile che è quello della verosimilità della verosimilianza in particolare di un pezzo di quella storia che è proprio il mining quindi andare a minare sull'asteroide questa cosa tecnicamente è fattibile e potrebbe effettivamente come suggerisce tra l'altro diciamo quel film creare una anche teoricamente la fine dell'era della scarsità perché effettivamente se dovesse arrivare una roba da diverse migliaia di chilometri e noi riusciamo a non far non far schiantare del tutto la terra però a riuscire a fare mining a estrarre del contenuto di minerali che in questo momento vanno oltre le terre rare sono oltre la nostra concezione e hanno un valore quindi inestimabile potrebbe effettivamente generarsi se riuscissimo a ridistribuire non finissero nelle mani dei 3 4 super ricchi potrebbe effettivamente determinare la fine dell'era della scarsità il che ci conduce davide visto che stiamo facendo questa chiacchierata perché nell'economia di diciamo di cronaca da metaverso dove poi faremo un sacco di chiacchierate super specifiche con degli esperti di settore mi interessava la tua visione di insieme e quindi secondo me manca un tassello importante almeno un tassello importante che è quello dello universal basic income il reddito universale diciamo di cittadinanza ecco qual è la tua visione su questo qual è il tuo sentire su questo tema allora innanzitutto don look up è un film che mi ha spaventato e non per la meteorite ma mi ha spaventato per la perché ha materializzato secondo me delle paure che secondo me sono giustificate e lo dicevo all'inizio quando ho parlato non a caso della politica no cioè la politica ormai è diventata troppo tattica e si è costretta a esserlo perché non è più grado di essere visionaria e secondo me non è all'altezza di potersi occupare di quello che diceva Simone delle valutazioni etiche delle cioè del pensare un mondo che è oggettivamente complicato da immaginare e vive secondo delle regole che ormai non sono più allineate al mondo cioè dico cose anche fuori fuori dagli schemi cioè il voto oggi chi vince uno in più uno in meno cioè rischiano certe cose di non aver più senso perché qua il discorso sull'etica di certe tecnologie sulle conseguenze non può essere il discorso di una nazione di un paese di una regione ma un discorso che coinvolge tutto il mondo tutto insieme no un po' lo diceva John Lennon ai tempi ma non è più qualcosa no che possiamo lasciare diciamo al dibattito di pochi ed è qualcosa di totalmente pervasivo quindi siccome non si riesce a avere questa visione di massima si ha una visione di minima che è più comprensibile per il grande pubblico che però poi non risolve i problemi di massima perché le cose che diciamo succedono non è che non basta non parlarne perché non esistano detto questo torno al punto di prima quindi lo spavento che ho preso dal film è perché ritengo che con la politica di oggi l'idea che nasca il partito del don't look up sia una roba realistica e che potrebbe avere un sacco di seguaci e poi come dire torno alla questione del no delle risorse allora la domanda vera è non so se ne avremo così bisogno di risorse per fare quel salto di paradigma di cui parlavo perché se facciamo quel salto di paradigma secondo me già con gli strumenti che sviluppando oggi quello che non ho detto del cosa mi immagino che succeda dopo è quello di un cambio di campionato per sintetizzare vi dico cosa voglio dire il bruco ha dei problemi salire su un albero mangiare una foglia diventare sempre più cicciottello eccetera trovare il posto giusto per farsi il bozzolo ma quando il bruco esce dal bozzolo è diventata una farfalla non ha più i problemi del bruco un'altra cosa può volare non ha problemi arrampicarsi sulle cose perché ci arriva dall'alto quindi i problemi di un tempo che erano quelli del bruco non ci sono più quindi se cambiamo il paradigma non so che problemi avrà l'umanità domani sicuramente non quelli di ieri magari saremo qualcos'altro proprio a livello sia fisico che intellettuale e tutto il resto detto ciò non evado la domanda del basic income leggevo un libro che si chiama utopia per realisti recentemente quindi ve la butto lì non ho una risposta per tutti no però dico in quel libro attraverso una serie di esperimenti sociali fatti sia in inghilterra che negli stati uniti a cavallo degli anni 60 70 si è visto che se dai a tutti un reddito non perché hanno particolari caratteristiche no perché sono o troppo poveri o troppo emarginati o troppo qualcosa ma se lo dai così a tutti solo perché nascono e questo permette loro di togliersi i problemi di base tipicamente ne escono fuori cose positive ripeto però la condizione che venga dato a tutti indistintamente senza alcune caratteristiche di ingresso c'era un intero paese negli stati uniti dove fornito questo reddito di base erano calate le malattie era calato lo stress era aumentata la produttività contrariamente a quello che si pensava come pensiero razionale e l'unica cosa erano aumentati i divorzi facile da capire perché no e sembra che questo tra l'altro poi proprio in america avesse determinato il fatto della non adozione perché non era molto accettata la cosa quindi questo è un come dire una risposta così abbastanza scherzosa che do però al dire che questo sembrerebbe aiutare tutti in un certo modo perché ti toglie un mal di testa poi vengo al discorso che la prima volta mi fece uno dei nostri relatori a campus party Andrea Pezzi che molti della mia generazione ricordano come un vj ma che poi è diventato un imprenditore di successo e molto con una grande cultura dietro che mi dice e lo condivido che gli esseri umani perlomeno la versione attuale dell'essere umano se gli togli i problemi ha un problema e perché avere problemi da risolvere è come dire quell'elemento che garantisce la longevità il fatto di stare attivi no il fatto di eh doversi reinventare di trover trovare soluzioni di tenersi impegnati comunque in una vita che sappiamo perfettamente quando parte e che anche un giorno arriverà alla fine e quindi aiuta a occupare lo spazio che intercore fra i due punti in un modo produttivo detto ciò ecco cioè livello di problema è livello di problema è interessante questa cosa perché diciamo prendo due momenti della tua della tua narrazione aggiungo solo un riferimento più recente oltre a quelli che hai citato per la parte di universal basic income che è un invece un esperimento fatto in scandinavia su un campione di duemila persone ed effettivamente in quel caso non citavano i divorzi ma c'erano stati solo degli effetti positivi il fatto che funzioni su duemila non vuol dire necessariamente che funzioni poi su 60 milioni su 7 miliardi però diciamo che dà delle indicazioni e soprattutto levava la condizione di totale ovviamente di senza tetto tutta una serie di situazioni che in questo caso non succederebbero più quindi questo è un primo riferimento e poi per quanto dicevi diciamo in generale secondo me questa fase è una fase particolarmente anche secondo me particolarmente fuoriera di un potenziale santo quantico mi piaceva la metafora che ho utilizzato del del bruco e della farfalla ci sono secondo me moltissime potenziali tecnologie che possono permettere di fare questo salto l'ultima di cui forse non abbiamo ancora parlato tra i super mega trend è quella dei computer quantistici che aggiungendo un singolo quantum effettivamente raddoppiano la loro potenzialità di calcolo a differenza invece degli degli aumenti incrementali che prima seguivano la legge di Moore ma poi ora si stanno un po rallentando dal punto di vista di quello che si può fare e questo è un tema che si collega con il metaverso anche da un punto di vista veramente molto concreto in questo caso perché uno dei limiti anche dei nostri visori eccetera è da un lato la connettività dall'altra la potenza di calcolo che ha fatto sì che in realtà il bridge principale in questo momento verso il metaverso fossero le piattaforme più le console che in realtà i computer quindi questo è forse l'ultimo tema secondo me che dovremmo andare a toccare e qui richiamo un attimo in campo anche Simone e come ex giocatore e forse giocatore video giocatore ancora di queste di questi tempi quindi ora che sperimentato un po' anche la parte di visori eccetera quali vedi come diciamo più 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 grandi potenziali innovazioni in questo senso cosa ti ha colpito di più ma in realtà in maniera come dire forse un po' così ricorrendo a una forciatoia ma vorrei rispondere alla tua domanda facendovi una domanda e cioè è più o meno da un mese che sto mettendo a dura prova un meta quest due e sostanzialmente la mia riflessione è questa e da qui la mia domanda mi sembra che manchi soprattutto a livello hardware qualcosa che davvero cambi le regole del gioco cioè manca consentitemi questo parallelismo l'iPhone esatto la realtà virtuale o del metaverso cioè manca quell'oggetto che è economicamente accessibile però permetta soprattutto a livello di uso quotidiano di trasportabilità di usabilità di creare un'abitudine che ancora adesso su questo su questo fronte noi non abbiamo cosa ne pensi esatto vai vai davide no la cosa è molto eccitante la tua vita appassionato di tecnologia parte vi dico fra le righe sono stato l'amministratore legato in una società di e sport che ha avuto la fortuna la fortuna la capacità di vincere due campionati nazionali league of legend quindi il tema game mi interessa no detto ciò hai centrato il punto Simone no il punto è proprio questo perché questo tipo di mondo diventi davvero mainstream occorre questo questo passaggio no quello proprio dell'iPhone della virtual reality e ovviamente in questo in quest'ottica ripongo molte speranze negli Apple Glasses perché poi non so se giustificate oppure no allora si parla ormai di questo progetto da diversi anni ogni tanto c'è qualche leak in giro che fa vedere delle presunti design di occhiali di qualche tipo però ritengo che i tipi di visori che ci sono oggi sono di gran lunga quelli che c'erano negli anni 90 quando ho provato la prima realtà virtuale in quei mondi poligonali dove te la dovevi immaginare no la realtà virtuale quella dei vecchi simulatori di volo di tanti anni fa e non è che i visori siano diventati molto più piccoli no di quelli che c'erano una volta e ancora oggi non mi immagino nessuno poter girare con un visore del genere però la Apple ha sempre avuto questa sensibilità di trasformare un prodotto con determinate caratteristiche in un prodotto mainstream quindi io ne parlavo proprio recentemente con qualcuno penso che se loro conserveranno questa capacità di tradurre queste funzionalità in un prodotto mainstream io immagino che qualche coraggioso come succedeva con i primi cellulari dove la gente si vergognava a far vedere che c'aveva una roba in mano e parlava incomincerà a girare con degli occhiali degli occhiali che saranno magari un po più grossi del solito però anche fashion che farà un po figo che costeranno un botto di soldi e questo inevitabilmente aprirà una via perché io ricordo di aver visto io ho preso l'iPhone 1 appena uscito ma io usavo smartphone touch da diversi anni c'era l'HTC in quel periodo ricordo io avevo un modello che si chiamava touch dual al tempo l'HTC aveva fatto un'interfaccia che si chiama touch sense dove io addirittura facevo lo swipe a destra girava un cubo con tutte le icone non so se te lo ricordi assolutamente sì smartphone prima del lo chiamerei già smartphone prima dell'iPhone 1 esatto ecco cosa ha fatto la Apple con l'iPhone e cosa penso e spero che possa fare con questo nuovo visore ha trasformato quello che era un device per gli addetti ai lavori cioè perché gli smartphone erano per i businessman che ne avevano bisogno ma le grandi folle non non si avvicinavano a queste funzionalità un prodotto che poi alla fine ha sdoganato una tecnologia straordinaria in mano alla massaia con tutto il rispetto cioè probabilmente la massaia per farsi selfie su Instagram ha un telefono più evoluto del mio no e io magari lavoro con la tecnologia tutti i giorni ecco io penso che serva questo passaggio tecnico perché senza quello in attesa di Nuralink no che ti mette comunque un chip che comunque è una roba abbastanza invasiva appena nato nella testa che oggi sembra una cosa strana ma chissà domani se invece sarà cosa così strana per i nostri nipoti ecco serve questo passaggio tecnologico fondamentale perché attualmente se no questi mondi sono un esperimento anch'io con l'Oculus mi sono divertito tanto devo dire che la longevità dell'esperienza aumenta nel tempo rispetto agli anni passati perché a volte mi trovo che ci sto un'ora collegato faccio cose interessanti o meno i postumi no tipo la nausea eccetera ci sono alcune esperienze che incominciano a diventare interessanti tipo quella sulla stazione spaziale ti dà un senso di essere veramente volando attorno alla terra però non è sufficiente ci vuole un pezzo di più. Io sono scettico però su questa rispetto alle aspettative per gli Apple Glasses cioè sono scettico perché mi sembra che negli ultimi dieci anni almeno questa capacità di innovare a livello proprio delle abitudini quotidiane si sia persa. Infatti il rischio Simo è che in realtà non stiamo tanto aspettando forse un nuovo iPhone ma stiamo aspettando un nuovo Steve Jobs da applicare a metaverso perché con Tim Cook ci siamo un po' persi questa capacità. Sono d'accordo. Disruptiveness sicuramente. Questo sono d'accordo totalmente perché Tim Cook è sicuramente un CEO illuminato che è stato capace a montare profitti eccetera ma anche alla vision che aveva Steve Jobs. Perlomeno l'impatto che ha avuto sul mondo in quel momento perché poi l'iPhone era uno dei prodotti ma il paradigma l'ha cambiato in tante direzioni. Avevo letto un'intervista alla figlia di Tim Cook che diceva che non riusciva a capire quale fosse il beneficio nel passare dall'iPhone 13 all'iPhone 14. Io immagino che un po' tutti si facciano queste domande dall'iPhone 7 o giù di lì anche forse anche prima. Però ecco invece tornando alla magia che si portava Steve Jobs forse l'unica persona in questo momento che mi dà altrettanta magia anche se gli ultimi casi sono stati un po' controversi hanno distrotto un po' l'immaginazione ma forse è non maschera ecco al mondo è l'unico che vedo che mi riporta un po' a quegli ambiti lì. Lascio stare la storia di Twitter le polemiche più però in termini di magia di prospettive di visioni ecco sicuramente è l'unico che in questo momento me lo me lo accomuna un po' però probabilmente ho fatto raccolarmi ma ma capisco. No come punto di partenza sicuramente si è un po' perso per strada Elon Musk ultimamente non so. Ma sai che io scusami ho il sospetto io scusami però non riesco a immaginare che in un mondo di questo tipo dove come dicevi tu no parlando del live frequency trading certe cose sono anche difficili ormai da intelleggere per il cittadino comune ma anche quello non comune cioè non posso immaginare che certi influssi di informazione possono seguire delle logiche che vanno oltre quello che sembrano no quindi concentrarsi anche su certi aspetti di una persona che secondo me è stata da sempre controversa perché come tutti i geni a luce e ombre in certi momenti non è detto che poi sia voglia dire che da altre parti non c'è niente da dire o che non ci sia più da dire no quindi no poi alla fine quando diventi troppo famoso e troppo anche per certi versi disruptive rischi di avere qualcuno contro che insomma ci sta quindi adesso non voglio fare il complottista per l'amor di Dio però ecco certe notizie possono tirare di più se c'è un hype che viene costruito ad arte e quindi ci si può concentrare un po' di più lì sarà un caso però adesso dopo l'ultimo come si chiama wet dress rehearsal del nuovo booster stato fatto insomma il prossimo step potrebbe essere il lancio orbitale della starship quindi insomma parliamo di roba che potrebbe davvero cambiare tante prospettive ecco certo assolutamente allora intanto va bene su queste cose su ad esempio anche l'approfondimento sui visori avremo una puntata spoiler solo questa con alessio grancini che lavora per magic leap in california ci racconterà molto bene nel dettaglio insomma il futuro dei visori il presente il futuro imminente dei visori siamo non vorrei abusare ulteriormente del tuo tempo davide quindi chiudo solo ritornando al format con la domanda che chiude cronache dal metaverso ogni puntata che dimmi una cosa che ti fa paura e una cosa che ti fa sperare riguardo al metaverso e più in generale insomma al mondo dell'innovazione quelle che ti fanno sperare sono già venute abbastanza fuori direi diciamo quelle che ti fanno paura ma la cosa che mi fa paura diciamo del metaverso e anche un po del resto no mi concentro sul metaverso per tornare al tema è che se davvero fossimo in grado di riprodurre una realtà che virtualmente indistinguibile dalla nostra nella quale troveremo un nuovo senso di partecipare senza potenzialmente i limiti no che invece la vita reale ci porta come concilieremo le due cose cioè io come posso immaginare di essere felice in un mondo sintetico dove faccio quello che voglio senza limitazioni dove esploro la parte migliore di me stesso dove mi relaziono agli altri senza barriere e poi uscire da lì avere un corpo che deve mangiare deve riprodursi invecchia che deve vivere deve pagarsi magari l'esperienza per il metaverso ecco quindi conciliare questa dicotomia secondo me sarà un tema che mi spaventa molto ecco perché poi eh temo che il metaverso possa diventare come oggi è la droga per molti c'è un'aspirazione e la gente farebbe di tutto per vivere il metaverso un minuto in più ma però dovrebbe procurarsi nel mondo reale delle risorse e vivere una vita miserabile per essere straordinari da un'altra parte non c'è molta differenza tra questi due mondi quindi questa cosa devo dire mi spaventa tanto chiaro chiaro Davide grazie mille è stato un piacere chiacchierare con te come come al solito eh grazie anche a Simone per le varie sponde imprescindibili noi ci vediamo con il format di cronaca dal metaverso la settimana prossima non più anche in video ma solo in audio dove dove ci trovano i nostri ascoltatori Simo? Ci trovano su tutte le maggiori piattaforme di podcast su Spotify su Apple Podcast su Google Podcast insomma tutte le altre e se vogliono una scorciatoia possono andare su roger-alto podcast.com e li trovano i collegamenti a tutte le nostre serie di podcast ottimo ottimo davvero grazie a tutti è stato un piacere grazie a tutti è stato veramente un piacere grazie a tutti ciao ан brain grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti